Calano i contagi? Cala l'efficacia dei vaccini. Si registra una riduzione, ma se oggi siamo al 15% dei contagi Covid, nello stesso periodo dello scorso anno la percentuale era pari al 7%. Il virus non è scomparso, ma è gestito molto meglio. Lo ha detto il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile dell'area Covid dell'asla di Vianizza a Salerno, analizzando il monitoraggio dei dati della pandemia in provincia di Salerno, parlando di un rallentamento dei casi positivi. Ma a calare sia pur di poco è anche l'efficacia dei vaccini nel prevenire i casi gravi e le morti, soprattutto negli anziani. La causa principale è il trascorrere del tempo che piega l'efficacia dei vaccini, ma intanto già si guarda ai vaccini aggiornati a Omicron preparati da Pfizer e Moderna, che saranno sottoposti all'esame delle autorità preposte a giugno e dovrebbero essere pronti per le prime somministrazioni in autunno. La pandemia è comunque in ritirata, ma bisogna avere cautela. Nessun paragone del vaiolo delle scimmie con il virus SARS-CoV-2, che si diffonde invece ad una velocità molto maggiore. Sicuramente i contagi sono ancora importanti, c'è una piccola riduzione, giriamo intorno al 15%. L'anno scorso in questi tempi eravamo al 7, 8, 10, ma avevamo ben altri problemi. Grazie ai 2 milioni e mezzo più di dosi di vaccino che abbiamo fatto, divisi tra prima, seconda e terza dosi, grazie anche alle 8 mila dosi di quarte dosi che abbiamo fatto nell'ultimo periodo e grazie alle terapie antivirali che abbiamo messo in piedi per le situazioni che si sono create a livello domiciliare. Noi in questo momento abbiamo gli ospedali dedicati, agropoli e scafati, sono al 25% liberi per la parte di degenza ordinaria e al 50% liberi delle terapie intensive. Significa che la malattia in questo momento siamo in grado di gestirla con serenità. Non è scomparsa però, perciò non dobbiamo abbassare completamente la guardia. Continuare a tenere atteggiamenti protetti, atteggiamenti precauzionali è importante e dobbiamo continuare a pensarlo. Poi per l'autunno probabilmente avremo un nuovo vaccino, speriamo che si possa fare insieme all'antinfluenzale che ci dovrebbe assicurare una permanenza di protezione adeguata anche per affrontare l'inverno. Vaccini che sono stati rimodulati con la variante Omicron, ecco proprio in questo periodo possiamo dire che è calato anche l'efficacia del vaccino soprattutto per quel che riguarda le persone fragili e gli anziani. Sì, noi dobbiamo confermare, il vaccino ci ha aiutato ad attraversare il deserto in questa situazione, però il vaccino non può essere la difesa assoluta perché abbiamo questo virus, è un virus estremamente mutante, il fatto che si muta non sembra che la protezione vaccinale iniziale ci aiuta. Perciò stanno lavorando, i grandi maestà che si occupano di vaccini, stanno lavorando a creare un vaccino adeguato al virus che è mutato. Dobbiamo sperare che per settembre-ottobre questo vaccino adeguato arrivi. Le persone anziane in questo momento dovrebbero fare comunque il richiamo o magari attendere l'autunno? Le persone anziane, ovvero 80, i fragili superiore ai 60, è importante fare il richiamo, lo stanno facendo, qualcosa si sta facendo, non in modo omogeneo su tutta la provincia, noi i centri li teniamo ancora aperti, ancora funzionanti, stiamo anche chiamando, qualche volta arriva anche qualche chiamata eccessiva, qualche persona si sente infastidita da questa situazione, ma per le persone anziane c'è anche la raccomandazione del Ministero di sollecitare l'offerta attiva, è importante farlo ancora. Non è vero che il vaccino non protegge, protegge ancora specialmente sui più fragili. Allarme per il Covid, allarme sicuramente di natura e di peso diverso, oggi si parla anche di vaiolo. Sì, no, qui è più che l'allarme sulla gravità della malattia, è l'allarme sulla parola che accompagna la malattia. Questa malattia è sempre stata molto marginale, però l'allenamento che abbiamo avuto in questi anni ha fatto sì che noi attiviamo immediatamente sistemi di sorveglianza e l'abbiamo fatta emergere. Per noi è una malattia a bassissima contagiosità, legata ad atteggiamenti particolari, a situazioni particolari, c'è bisogno di contatti molto diffusi e è autolimitante, non è una malattia che ha lo stesso meccanismo del virus del Covid-19, è un virus a DNA molto più stabile, per cui per esempio tutti i vaccinati antivaiolo precedenti sono ancora protetti, non dobbiamo avere timore su questa malattia, stiamo tranquilli, è una malattia che teniamo sotto monitoraggio e non creerà nessun problema.